Qui insieme al mister Veloce, mister oggi una sconfitta di misura nonostante una buona partita per voi. Sì, abbiamo fatto una buona prestazione, siamo stati un pochettino sfortunati, abbiamo avuto una bella palla subito pronti via per riuscire a sbloccare il risultato, poi alla prima occasione neanche tanto pulita ci hanno fatto a gol loro, è comunque una squadra con giocatori importanti, però i ragazzi sono stati veramente mi sono piaciuti, hanno giocato con l'impegno dall'inizio alla fine e questo fa ben sperare comunque. Il suo arrivo in panchina ha permesso alla squadra di concentrare qualche buono risultato anche a livello di punti oltre che prestazioni, la strada per la salvezza resta ancora molto lunga ma ci sono degli spiragli per questo. Ci sono degli spiragli perché quando vedi ragazzi che giocano con l'impegno che hanno giocato oggi, diciamo quelle partite che tra virgolette possono essere un po' più abbordabili, con questo impegno secondo me si può fare bene. Grazie mille.